Sono diventato un gigante, sono alto più di te bro, sì, sono alto più di te, sono alto più di tutti, ragazzi, sono un gigante Io ragazzi, non so che dire, andiamo a fare una bedwars, vi auguro una buona visione, ho paura ragazzi perché sono così grande che posso letteralmente picchiare tutti Bene, iniziamo a picchiare tutti nelle bedwars, mi invito ad iscrivervi se non siete iscritti perché se no il marquez gigante si incazza, diventa ancora più grande e vi chila tutti Quindi se no vi iscrivetevi attiva dalla campanellina e lasciate anche un bel like, adesso andiamo in game e andiamo a saltare in faccia dagli avversari, ebbene sì, vi auguro una buona visione Ebbene sì rica, oddio non entro il generatore, e il signor marquez non entra il generatore, oh calmo, oh sbatto la testa, sbatto la testa Oddio, allora, signor villager, lei intanto è più basso di me, quindi per favore, stia calmo, shiftiamo e iniziamo a piazzare Ehm, sono così grosso ragazzi che non riesco anche a piazzare i blocchi, non entro nei punti Ecco ci sto riuscendo ragazzi, e però non vale ragazzi, non vale, no 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 Perfetto, siamo arrivati ai diamanti, c'è il bianco che ci sta lasciando però abbiamo tre diamanti, perfetto, madonna regà Ma sono altissimo, altissimo, guardiamo l'ultimo letto che abbiamo il bianco sopra Allora, prot, l'igenerazione, bene il bianco è caduto, adesso abbiamo il giallo da lasciare Vogliamo provare a lasciarlo? Proviamo un attimo, eh regà, per il problema che io se io fa sbridge ho qui cato Quindi cerchiamo un attimo di alzarci, perché abbiamo il giallo qui ragazzi, primo PvP di oggi Oddio, ma lui perché picca a basso? Io picco alto regà, ho 26 di gold Ma faccio lo cazzo, non si può blocchi, però se è bassissimo, però se è basso porta rispetto Oh, via via via, ok, io vorrei rompere la glia in mano ragazzi E mi sa che lui ando sotto, quindi non ci facciamo nulla, cazzo, vieni qua bro Oddio, oh minchia adesso, no Christian, no 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 no, non puoi, non puoi farlo Christian Non puoi farlo, è bannabile, è bannabile killarmi, non può Christian, è bannabile L'è contato, vieni signor Christian, vieni bro, vieni bro, morto, sì Allora adesso, spada in ferro, perfetto, dieppoline tattiche, fireball e blocchi E il pink adesso, si mette pure per quanto siamo grossi Scambio di fireball, buono, io di solito non è bello, faccio scambio di lettere È la prima volta che mi capire di fare uno scambio di fireball, ma non bene così Oddio non ci passo regà, sono grandissimo Sono morto, Luigi Marcus, oggi come mi sono salvato No, chiudi di dentro bro, non puoi, chiudi di dentro, sei dentro Solo quelli grandi possono passare Vola dalla finestra, vola Oh bro, ma vedi che citti, vedi che stai citando Ok, perfetto È scomodissimo giocare così perché sono così grosso Che non posso attraverso i muri Non posso attraverso i muri regà Ho un braccio ragazzi più enorme di tutti i player di questo game messi assieme È incredibile Ah, cerchiamo di andare in mid senza cadere ragazzi, veramente Non dobbiamo cadere Ok, purtroppo non posso far sbrigare ragazzi, questo è un problemino Abbiamo tanti smeraldi E vedo anche un bel collegamento qui Noi ci possiamo tuffare, fare così Andare qua, senza magari cadere Perfetto Oh no, 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 no No, non puoi Non puoi farlo Oh cazzo, è adesso? No ragazzi no No ragazzi, no, no, sono chiusi No, 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 oddio Va bene Adesso però il signor Marquez si è arrabbiato Guardare, 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 guardare qui Non ci passo, non ci passo, non ci passo Sono anche shiftato bro, non ci passo Qua abbiamo un Marquez piccolo e un Marquez grande Bro, letteralmente mi arrivi al pisello Cioè quando siete piccoli Ma siete piccolissimi, rica Crescete, cioè Sì che io sono alto tantissimo Però dai Secondo game di oggi Cerchiamo di fare qualcosa di utile Oltre a respirare Ok Essendo che io non posso far sbrigare Devo lasciare subito Lasciamo instant il rosso Vai, si vola Ok, abbiamo il rosso qui bro Arriva il Marquez gigante bro Sei bassissimo in confronto a me Ma questo me lo tre Sono morto Comunque, mi volevo solo dire questo In teoria Sono avvantaggiato Cioè loro Loro non cambia un cazzo Però in teoria Io sono avvantaggiato Ma svantaggiato Sai vedi che io non lo so Se sono avvantaggiato o svantaggiato Non lo so Tu mi vuoi rompere Il letto Io dovrei essere avvantaggiato Perché li killo praticamente Dall'alto In teoria Letto è andato Eh ma killa Mi killa Mi killa Mi killa Va bene Va bene Adesso però ragazzi Il Marquez gigante Si è fatto Una spada in ferro È ripeto il momento Di killarlo Oddio non l'avevo visto Vieni qua Vieni qua Perfetto E lui ragazzi È andato Gap ho altri blocchi Perfetto Ragazzi il grigio Non è il letto Il grigio c'è il letto Ma è stato eliminato Praticamente Ok Buona saper Sebbe avversi il letto Ok Quindi adesso Lo apre così Ok No via 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 Ok Aspetto Ok L'ho chilato Il letto è andato Vuoi fare screen Vai Tu che vuoi fare screen Mi devo un attimo Shiftare Perché sono troppo alto Sono troppo alto Vai facciamo screen Ok È andato anche lui Ok abbiamo il bianco Davanti a noi E il verde Che è il letto Che non so però Dov'è Direi prima di killarci il bianco Regà Abbiamo la base qui davanti Non entro in un blocco 2x2 Non entro in un blocco 2x2 Non ci credo Oh Molato Regà sono troppo alto Non entro in un blocco 2x2 Non mi posso boxare nei letti LOL Ok No 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 Bene Il marquez gigante Non accetta la sconfitta di prima Adesso O vinciamo questo game O io mi incazzo Quindi prendiamo intanto Il legno Per guardare Ok abbiamo Un blocco davanti Va bene Ma regà Non è impossibile Ok L'ho chilato ragazzi Ma no È impossibile Sto schierando Via ragazzi Via Ok Il grigio si è suicidato O direi che Ancora arrivano tutti Andiamo di qua Regà Sono in una situazione No di merda Di più Il marquez gigante Un attimo Prima di situazione Un po' di merda No 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 Non c'è Capito Per favore No Per favore No bro Mori Oddio sì Oddio sì Via Ragazzi 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 siamo messi di merda Oddio Questo intanto Vola Perfetto Mi sono fatto Oddio no 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 Ne sono due No 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 Ne sono due Via Non ci passo Non ci credo Che situazione di merda Ragazzi Che situazione di merda Mi stanno targettando Ok Oddio Via regà Via Ragazzi c'è anche il blu No regà No 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 regà Bene ragazzi Sono diventato un cestino umano Questo video di oggi termina qua Io spero vi sia piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi Non Scordatevi Le Bedwars da gigante Non le farò mai più Io me ne vado Bella Porco Ciao